Nel corso dell'ultimo anno, il vertiginoso incremento dell'utilizzo delle moderne tecnologie e delle piattaforme di comunicazione online, social network e di applicazioni di messaggistica istantanea ha determinato un impegno maggiore da parte della Polizia Postale che, nel 2022, ha dovuto far fronte a sfide in ambito informatico, in particolare nella prevenzione e contrasto della pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rivelanza nazionale e financial cybercrime a forme di estremismo politico e ideologico che in contesti internazionali. Dal report della Polizia Postale del 2022 relativo ai dati della Regione Campania è emerso che i casi trattati in materia di abusi su minori in rete nel 2022 sono stati 101 e le indagini condotte hanno portato all'arresto di 20 persone, alla denuncia di 116 soggetti e a 139 perquisizioni. Per quanto riguarda il cyberbullismo, i casi trattati con vittime tra gli 0 e 9 anni nel 2022 sono stati 17, i casi trattati con vittime tra i 10 e i 13 anni sono stati 87, quelli con vittime tra i 14 e i 17 anni nel 2022 si sono ridotti di un centinaio rispetto ai 319 dell'anno precedente. I minori denunciati per cyberbullismo sono stati 128. Sono stati trattati anche casi di reati contro la persona perpetrati online. Nel 2022 in Campania sono stati trattati 97 casi di sextortion, un fenomeno che colpisce gli adulti in modo violento e subdolo, fa leva su fragilità, minacciando la tranquillità delle persone. Recentemente le sextortion stanno interessando vittime minorenni con effetti lesivi potenziati. La vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei di fronte ai quali si sentono colpevoli di aver ceduto o di essersi fidati di perfetti e abbenenti sconosciuti.